Buongiorno, 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 ben ritrovati, ben ritrovati con la diretta Intermarket. Vedete adesso Bloomberg ci fa un riepilogo delle news. Dai Bloomberg, vediamo subito quelli che sono i temi importanti di questa giornata. Stiamo entrando nel vivo di una settimana molto, molto, molto interessante. Già arrivano i messaggi. Marco, buongiorno. Carlo Andrea, salutiamo il Real Madrid. Carlo, mamma mia, Ajax, che servizio, che servizio ha fatto. Ajax al Real Madrid è finita un'epoca, è finito un ciclo, come dicevano i telecronisti di Sky. Insomma, effettivamente, insomma, mamma mia, quanto fa un giocatore, quanto fa un giocatore Cristiano Ronaldo. Sembra di essere ritornata al 2017, bassa volatilità, scrive Marco. Interessante, interessante. Allora, cominciamo subito con la sigla della diretta Intermarket, perché ci sono tante cose interessanti, tante cose di cui parlare. Sta caricando, sta caricando. Se qualcuno di voi non riesce a vederla, nella registrazione, io ho visto, va bene la sigla. Quindi abbiate un po' di pazienza, dura tante pochissimi secondi. Andiamo con la sigla della diretta Intermarket. 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 Grazie a tutti. Fini. Grazie a tutti Buongiorno Gianluca, vi attiva anche la webcam se sei vestito ovviamente decentemente quindi possiamo attivare anche la webcam vediamo, vediamo, fatti vedere, eccolo lì che sta caricando, sta caricando la cam eccola lì, eccola lì, buongiorno Ivan come va allora questi mercati che dicono cosa si dice l'australiano, questa notte con il Bill oggi c'è il Canada, Meeting Bank of Canada vedo che va e viene, va e viene la tua connessione intanto saluto anche ancora una volta Carlo De Santis Alessandro di nuovo ciao mi sa che Ivan insegue il Dax come me, sta scrivendo Alessandro e poi Pina, buongiorno, è incominciata la stagione lavorativa per me non sapete quanto mi mancano tutti gli amici e le dirette Pina, Pina, cerca di seguirci, cerca in qualche modo di seguirci anche insomma in queste condizioni ti passo il controllo, il controllo del monitor così andiamo a vedere quella che è la tua piattaforma operativa ovviamente STO con l'indicatore De Caro Esekinashi la formazione operativa di Ivan che potete avere gratis grazie a STO se avete un conto premium o pro col conto pro avete tutti e due gratis, sia l'indicatore che appunto la formazione operativa di Ivan che vi informa attraverso degli alert di trading sul canale Telegram e poi c'è anche tutto un ricco archivio di formazione e in più c'è anche la possibilità di avere una sessione one to one one to one con Ivan quindi per trattare quello che è l'argomento gli argomenti di vostro interesse ovviamente di trading quindi un'ora di sessione individuale tutto questo aprendo un conto reale con STO il link chi sta guardando la registrazione lo trova nella descrizione del video chi invece segue la diretta nell'email che io mando subito dopo con la registrazione di questo video perché chi si registra può seguire la sessione live e riceve in automatico quindi se un giorno non puoi seguire la diretta ricevi comunque ti mando la registrazione e allora tu sei proprio su Australiano in posizione Ivan? Sì esatto Renato siamo su GBP AUD quindi la sterlina contro il dollaro australiano che ci sta ci ha vato meglio delle indicazioni molto interessanti long perché? perché l'australiano si è indebolito come giustamente sottolineavi tu durante la notte e la sterlina sembra abbastanza tonica su questo cross vediamo che tra l'altro è stato preso l'ordine buy quindi essendo appunto la London Breakout abbiamo cancellato l'ordine sell avevamo i volumi a nostro favore avevamo il vortex nettamente a nostro favore c'è stata con la candela oraria precedente una spinta notevole che è andata a prenderci l'ordine ma la cosa importante è che ha rotto tutti i massimi precedenti perché qua c'era un bel livello di resistenza è stato rotto questo livello adesso si tratterà di capire magari se è un falso breakout oppure se ci potrà essere un'accelerazione al rialto la candela attuale sta retestando il livello di 1,87 sta retestando i massimi precedenti di fatti prima eravamo in guadagno adesso siamo leggermente in perdita l'impostazione direi che è ottima è ottima al rialto a meno che non ci siano delle dichiarazioni adesso questo piccolo ritracciamento probabilmente è stato dettato anche da qualche notizia che stavo leggendo a fronte dell'Unione Europea hanno detto che praticamente non si risolverà niente sulla Brexit sino all'inizio della prossima settimana non si aspettano niente questo weekend per cui c'è stato un attimino di ritracciamento ma a livello tecnico ci sta assolutamente i filtri sono dalla nostra parte per cui l'operazione sembra essere ben impostata quindi vediamo quella di ieri praticamente siamo a 3-4 pips dall'ingresso all'attrezzo attuale quindi siamo lì adesso siamo a 3-4 pips però chiaramente vedete operando con un lotto sono circa 30 euro vedete 26 la 31 euro siamo a 3 pips è un lotto intero quindi 100.000 lotto standard quello formato a 100.000 unità Carlo ti chiede oggi ci sarà l'appuntamento con l'indicatore Aikinashi? sì probabilmente sì probabilmente facciamo anche una patina facebook dell'indicatore quindi insomma Ivan quando può fa anche delle dirette anche lì sul canale saluto intanto anche Giuseppe Fierro buongiorno 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 e situazioni posizioni aperte non so in questo momento il canale formazione operativa allora no è l'unica che abbiamo in essere perché solitamente Renato ecco questa è una cosa che ci tengo a precisare non facciamo tante operazioni perché per me è importante questo aspetto ma ne facciamo poche ne facciamo poche speriamo insomma di farle buone come ultimamente sta accadendo per cui io dico ma anche tu hai sempre detto meglio poche ma buone assolutamente assolutamente per chiudere e per correttezza vedete che vabbè io qua trovo qualche altra operazione una su DAX una sul CAC che poi vedete praticamente sono controbilanciate però l'operazione sulla GBT Yen ieri si è chiusa in stop pari leggermente in profitto vedi io tendo a mettere magari due o tre pips o un pips di profitto solitamente peccato era andata a sfiorare il target ieri mancavano quattro pips al target abbiamo scelto di tenerla aperta e poi andata in stop pari anche se qualcuno mi ha scritto che insomma è uscito prima dei 50 pips che avevamo ne ha preso 30, 35 30, 35 per cui magari per qualcuno è andata in profitto comunque l'operazione bene 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 Carlo dice se no ti viene sotto casa a trovare se lo fai la diretta oggi Carlo Andreschi è tutto ok si è interrotto tutto Carlo io per me qui vedo che funziona vedo il collegamento vedo la piattaforma di Ivan non mi risulta altri feedback negativi dalla chat quindi forse è un tuo problema esci e rientra se riesci a sentire se sei ancora collegato e quindi magari così puoi ritornare quindi non mi risulta non mi risulta altri problemi e quindi va bene va bene allora grazie Ivan mi prendo mi prendo il controllo del monitor ti saluto quindi se volete essere seguiti da Ivan nel discorso formazione operativa tutti i giorni insomma c'è il canale quindi c'è la possibilità di aderire a questo servizio gratuitamente grazie a STO grazie Ivan buona giornata allora grazie a te Renato buona giornata a tutti a domani bene 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 allora allora cominciamo a vedere quello che è il calendario macroeconomico della seduta odierna si entra come detto siamo oramai stiamo cominciando siamo al giro di boa di una settimana dalla parte della boa dove ci sono quelli dati più importanti più importanti con meeting oggi c'è miti della Boc Boc Bank of Canada ma c'è la bilancia commerciale ci si aspetta che si allargerà il deficit a Trump che io lo dice lui già avrà visto sui bottoni della cinta che si sta allargando e quindi avrà già capito ma attenzione allora cominciamo a vedere cominciamo a vedere quelli che già sono stati pubblicati c'è ragazzi mi raccomando che io vi vedo se state guarda Romolo per esempio Tommaso non stai guardando io vi vedo mi fa vedere se la vostra attenzione è su di me guardami 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 allora GDP vediamo vediamo è uscito questa notte 1.30 perché la Sterling l'Australiano è venuto giù mamma mia eravamo intorno a 0.70 84 e siamo adesso lì pochi pips sopra 0.70 è uscito il PIL che vediamo allora il growth rate 0.2 0.2 ti guardo Renato Tommaso non lo farei più non lo farei più Mattia posso andare in bagno va bene alzate la mano che la possiede alzare la mano alzate la mano chiede di andare in bagno va bene va bene consentito ci divertiamo ci divertiamo ci divertiamo in questa diretta Intermarket vorrei prendere questo monitor capire 0.2 è quello 1.02 rispetto allo 0.3 che ha fatto crollare l'Australiano oppure su base annuale 2.3 sotto il 2.8 precedente 2.5 ci si aspettava ma ma questo qui poi meno 1 il deflatore 1.4 è salito final consumption positivo ma non lo so sarà pure un momento negativo di tutto incluse le materie prime poi poi 9.30 è uscito construction PMI tedesco decisamente positivo 54.7 sopra 4 punti sopra il dato precedente e poi niente si va nel pomeriggio quando alle 14.15 l'ADP quando tu vedi l'ADP che significa che venerdì c'è non fan per all mamma mia mamma mia siamo arrivati a 100 non fan per all consecutivi positivi quindi sarà 101 probabilmente venerdì prossimo da domani tutti col taggete scrive Carlo tanto non vi vedo potete fare quello che volete no no fate i bravi fate i bravi Carlo c'è la bilancia commerciale c'è la anche l'1.15 prima 13.15 c'è un membro della Bank of England Eric Carney ha detto che in questo momento siamo meglio preparati quando aveva sempre detto che era la fine del mondo se uno deal se non c'era un accordo Brexit adesso ha detto siamo meglio preparati nel frattempo insomma c'è qualcosa e sta dicendo Mattia io sto guidando ma ti seguo mi raccomando mani sul volante occhi davanti allora Mattia e quindi balance of traders venancia commerciale canadese atteso anche qui il deficit in aumento dal precedente 2-206 a meno 2,8 ma quella americana quella americana guardate lì chi lo dice a Trump che si avvicinerà a un deficit di meno 58 dal precedente 49,3 mamma mia e poi alle ore 16 BOK Bank of Canada tassi dovrebbero rimanere fermi all'1.75 e a tal proposito preparato dal sito Forex Factory dove si possono fare filtri belli che questo si usano soprattutto avete visto Trade Economics ma anche Forex Factory è bello e ho messo selezionato solo il canadese per vedere quelli che sono stati gli ultimi dati oggi gli ultimi dati fino ad oggi pubblicati e proprio venerdì scorso c'è stato il PIL si aspettava una variazione stabile invece vedete è uscito un meno 0,1 poi se andiamo al mese precedente e torniamo agli ultimi dati di fine mese c'era un'inflazione un'inflazione 0,1 qui forecast forecast 0,1 quindi che è cresciuta meno quindi abbiamo un'inflazione che è almeno secondo le ultime rilevazioni inferiore così come anche il PIL e poi cosa c'era c'era le vendite alle dettagli è uscito meno 0,1 rispetto a quello che era lo 0 l'ADP va bene vediamo altri dati insomma gli ultimi dati non è che siano stati così positivi abbiamo brillato e quindi vedremo vedremo quello che dirà oggi la Banca Centrale del Canada Carlo Carlo mi avvicino Carlo qui con disoccupazione come anni 60 ma salari fermi la dice lunga sulla qualità dell'impiego si capisce il livello indebitamento che consumatore US fatica a onorare eh sì tra altre cose Carlo ma hai visto quanto fanno pagare di interessi sulle carte di credito mamma mia in America è qualcosa di assurdo assurdo allora tanto Salvatore Salvatore non sta guardando il monito Salvatore che stai facendo Salvatore guardami 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 Salvatore eh attenzione che alle 16.30 scorte di petrolio scorte di petrolio attese in rialzo dopo il meno 8.647 della settimana scorsa 1.203 e poi ci sono dichiarazioni di membri della Fed Master Williams Saunders della invece Bank of England e poi all'evento in serata prima delle partite prima della Roma prima della Champions League c'è oggi quindi il Beige Book e a proposito a proposito del petrolio dal sito del Sole24ore Sissi Bellomo la materia prima lei che è la materia prima del Sole24ore c'è questo articolo andato a leggere mi raccomando lo shale oil cos'è shale oil? olio di scisto gli americani dicono ci dobbiamo inventare qualcosa per renderci indipendenti dagli arabi da tutto il mondo del petrolio inventiamoci questo olio di scisto tradotto dall'inglese all'italiano lo shale oil che non è la stessa qualità del petrolio quello che magari mare del nord o altri impianti quelli classici e ora sono diventati esportatori cioè non solo sono autonomi sono diventati esportatori e i colossi come Exxon e Chevron addirittura vogliono triplicare la produzione guardate sul mercato arriverebbero almeno 1,2 milioni di barili al giorno in più volumi paragonabili attuale produzione del venezuelo ed equivalenti ai tagli produttivi appena effettuati l'OPEC taglia e quelli che fanno e non va bene l'OPEC dice no americano tu vuoi fare americano non va bene non va bene io taglio la produzione per livellare quella che è la domanda offerta se no c'è petrolio dappertutto c'è olio c'è petrolio dappertutto nelle piscine aprite il rubinetto esce il petrolio e tu io sto tagliando la produzione perché voglio tenere i prezzi alti e Trump poi twitte e dice no tu OPEC non devi tenere i prezzi alti abbassa i prezzi quindi vedete che dinamiche che ci sono all'interno dei mercati Carlo dice sempre ma come come dice olio sasso olio facchioni no passami olio di cisto grazie tra un po' lo vedremo pure sulle tavole nelle nostre cucine in America condisco l'insalata con l'olio di cisto guarda tu vuoi fare americano Carlo Carlo hai capito l'OPEC taglia e loro aumentano la produzione e quindi e poi c'è Trump che twitta quando vede che i prezzi dà la colpa e dà la colpa all'OPEC e dà la colpa all'OPEC va bene torniamo al calendario il calendario è finito il calendario è finito discorso Dazzi ieri si è inserito anche Pompeo 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 segretario di stato ex della CIA che ha detto anche lui ha detto siamo vicini siamo vicini vedremo se ci sarà a fine marzo questo incontro o no tra Trump e il leader cinese ma Trump ha già avvisato i giapponesi i prossimi siete voi i prossimi siete voi e non solo Trump ha detto voglio che ci sia in tutti gli accordi che andrò a ratificare adesso una clausola l'ha detto anche i cinesi una clausola sulle currency perché Trump da quando ha detto i giapponesi gli europei noi europei i cinesi tutti che si divertono contro il dollaro basta basta e sta quindi anche i giapponesi li ha avvisati ci sarà una clausola e questi i giapponesi ha detto no non è vero non è vero non ci serve questa clausola perché possiamo dimostrare che oramai non c'è più questa correlazione diciamo così tra l'andamento della valuta della svalutazione dello yen non sta aiutando le esportazioni giapponesi dicono il Giappone quindi non c'è è inutile che mettiamo una clausola che potrebbe insomma metterci legare le mani in quelle che possiamo tutte quelle che sono le nostre politiche monetarie e tutto il resto e quindi vedremo 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 loro dicono che non c'è più questo collegamento cioè tra andamento delle esportazioni e quello della valuta giapponese e quindi Mattia mancherebbe Bolt per fare il filotto delle dichiarazioni Bolton Bolton quindi Bolton pensavo Bolt l'altro e quindi questo vedremo 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 come poi e poi ci siamo anche noi europei si incontreranno rappresentanti europei e americani riguardo alle tariffe possibili dazzi industria automobilistica insomma questo è il quadro per quanto riguarda dazzi 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 e qui c'è un interessante articolo sempre sul sito CNBC America e tu che segui la diretta intermarket lo dovresti sapere abbiamo parlato un sacco di volte dove dice che i buyback l'acquisto di azioni proprie che ha caratterizzato praticamente tutto il rialzo marzo 2009 facciamo 10 anni quest'anno da quel famoso minimo l'abbiamo già fatto minimo 666 l'S&P 500 fece un minimo in 3666 e da allora siamo arrivati a 2786 e non siamo ancora neanche i massimi storci immaginati da 666 a 2800 punti in 10 anni in 10 anni e qui dice che adesso storia più recente non quella che insomma ha caratterizzato quindi tutti questi rialzi intanto è arrivato Massimo buongiorno 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 Massimo ancora tutt'oggi sono i buyback e gli etf etf queste gestioni passive che oramai la gente dice ma perché devo investire nei fondi perché devo investire i buyback intanto lo spiego per l'ennesima volta è l'acquisto di azioni proprie che fanno le società che per carità non è che sono negative sono una cosa brutta però se lo fanno per far aumentare perché meno azioni ci sono in circolazione e tende a far lievitare tende a far salire le quotazioni i prezzi del titolo in questione se tu però questa liquidità tutto questo qui lo usi per fare il buyback lo fai per reinvestire assumere persone va bene invece ho fatto vedere in passato che nel stesso momento in cui si faceva il buyback licenziavano chiudevano degli impianti chiudevano negozi le aziende americane tant'è che i democratici adesso vogliono limitare vogliono mettere dei freni insomma tutta questa opera di diciamo gonfiamento delle quotazioni alla fine perché poi aumentano i bonus perché i dividendi perché ovviamente sale 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 la performance del titolo e gli etf invece sono gestioni passive la gente dice ma perché devo investire in un fondo compro un etf che mi compro tutto l'indice americano tecnologico quello lì quello lì e sono e quindi sono questi questo articolo qui questa analisi fatta dal bank of america mary lynch che i bank buyback e gli etf sono quelli che stanno ancora spingendo al rialzo le quotazioni del mercato americano Carlo dopo il 666 ricordiamoci il 999999999 e quindi a questo punto ci siamo ci siamo sale oil abbiamo parlato abbiamo parlato quindi ok possiamo cominciare un'occhiata qui ai grafici c'è gli us di cad la vigilia oggi c'è il meeting della bank of canadi si cade altissimo tra un po' andremo a vedere anche il grafico daily Marco discorso giusto Renato è condivisibile grazie grazie Marco ma la liquidità delle banche centrali imbarazzante e la banca centrale americana sta dicendo che vuole ancora essere presente sul mercato invece di togliere un po' di liquidità hanno detto no no per carità fermiamoci fermiamoci perché la banca centrale americana è la prima che sta cominciando sta insomma rientrando cercando di tornare alla normalità con la loro liquidità loro sostengono le borse scrive Marco esattamente esattamente quindi domani vedremo Draghi domani domani che ci dice Draghi cominciamo a vedere un po' di grafici cominciamo a vedere un po' di grafici e Giappone attenzione Giappone candela rossa candela rossa su un livello 21.725 che non è particolarmente insomma brillante andiamo a prendere la penna andiamo a prendere la penna intanto subito balza all'occhio il fatto che qui c'era stata già una precedente candela rossa e chinashie che come vedete non ha avuto successo 21.725 non è perché solo qui vedo qualcosa di interessante perché ovviamente una candela rossa da sola come questa qui che si è formata adesso non dice nulla ci deve essere una zona di resistenza quando invece candela verde ci deve essere un supporto l'unico interessante è questo qui perché vedete qui l'ha passato proprio l'ha ripassato al rialzo l'ha ripassato cioè qui proprio i 21.725 non l'ha considerato come livello qui sì qui ha avvertito ha preso la scossa ha invertito poi al rialzo e che scossa perché poi siamo arrivati qui sul livello dei 24.000 punti però poi vedete l'ha ributtato giù così insomma qui qui questo può essere la trappiglio come resistenza decisamente quindi vediamo 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 togliamo tutto quindi candela rossa ricordiamoci poi del grafico dollaro yen con cui vi è un legame una correlazione intermarket non automatica però quindi mercato a giapponese candela rossa sul livello 21.725 vediamo se sarà diversa da questa candela rossa indici americani Nikkei non ha seguito del tutto la salita S&P 500 scrive Mattia andiamola a vedere allora cominciamo con l'S&P 500 che resta al di sotto della famosa resistenza 2.808 10 anni fa 666 il minimo toccato intraday e siamo sempre lì siamo sempre lì questo è tutto il trend rialzista la famosa inversione AV prima di Natale sembrava la fine del mondo e poi boom tutto è recuperato stavamo scherzando hanno detto gli americani siamo sopra la media mobile 200 semplice giusto un indicatore in più per dirci quello che è il trend già lo vediamo siamo su un rialzo e siamo su un livello fortissimo 2.808 Dow Jones in questo momento è quello che ha risentito di più del tocco con la resistenza 26.195 siamo a 25.792 il Nasdaq resiste ancora al rialzo però è lì lì proprio sotto sotto questa resistenza 7.169 cosa 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 potrà sbloccare cosa potrà sbloccare insomma gli indici americani sono lì e lo guarda tutto il mondo la vedono tutto il mondo questa situazione guardate sono sotto delle resistenze importantissime vediamo 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 intanto anche la situazione per quanto riguarda l'Europa 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 che in questo momento stava un po' si sta sopra performando nel breve periodo in questo momento con vedete il nostro Fuzimib che per il momento si è preso una pausa da quando ha rotto questa candela rossa la candela rossa Fitch Fitch in attesa di Fitch pronunciamente Fitch che poi sappiamo ha lasciato tutto invariato e poi da lì quindi c'è stata la variazione i nuovi massimi di periodo e adesso c'è questa piccola resistenza vedete verso i 20.750 punti il DAX è ancora decisamente al rialzo però è qui in fase di test della resistenza 11.590 però sia il Fuzimib che il DAX sono al rialzo Aikinashi ci dice a rialzo così come è al rialzo qui l'indice Eurostoxx è a rialzo Macron e entrambi vedete siamo sopra la media mobile a 200 anche l'Italia mentre il DAX ancora non l'ha vista non l'ha vista proprio la media mobile a 200 la Spagna ieri ha mostrato una candela rossa però insomma chiuso praticamente invariato aspettiamo delle conferme siamo proprio lì dentro la media mobile a 200 mentre prosegue il recupero dell'indice inglese 100 GBP CFD che è trovata sulla piattaforma di STO e adesso vediamo se è riuscito a superare i 7223 e adesso andiamo anche a vedere se c'è una sterlina che invece va a ribasso perché soprattutto da quando c'è Brexit abbiamo visto c'è la sterlina scende l'indice inglese non in maniera proprio automatica che uno dice come fa un pip al rialzo la sterlina ne fa uno al ribasso un tic al ribasso l'indice inglese no perché all'interno del Puzzi 100 ci sono molti titoli che fanno affari con l'estero e quindi una svalutazione della propria moneta loro sono tutti contenti festeggiano festeggiano vediamo vediamo se ancora quindi al ribasso la sterlina contro dollaro è confermato è confermato ed è anche confermato la questa forza della moneta americana non solo vedete nei confronti della cable della sterlina del pound del cable insieme a sterlina contro dollaro contro questa resistenza 33 e 08 la distanza ancora siamo distanti da quella che la media mobile a 200 prosegue il rafforzamento del dollaro nei confronti dell'euro e anche CHF e in qualche modo anche dollaro yen continua a salire in qualche modo insomma aspetta anche conferme per quanto riguarda gli indici americani dove il Giappone abbiamo già visto si comincia a vedere una possibile candela rossa ai chinasci massimo il dottor Pianezza è possibile contattarlo? assolutamente sì assolutamente sì trovi tutti i riferimenti te li faccio vedere al volo se vai sul sito di STO e te lo metto nella chat così puoi andare purtroppo Marco non può partecipare alla diretta vedi qui c'è contattaci e poi scorri in basso e trovi tutti i riferimenti l'indirizzo email il numero verde e il numero dell'ufficio Milano e quindi puoi contattarlo lì torniamo torniamo al grafico allora quindi ancora forza di dollaro euro dollaro sarà interessante domani prima bce e poi venerdì non fan per all quindi eur bce usd non fan per all e oggi però ci sono altri dati importanti relativi alla per esempio bilancia commerciale altri asset in materie prime dollari però sono le materie prime eccolo lì eccolo lì ovviamente oggi sorvegliato speciale il canadese che sta facendo tutto questo bel rialzo sul supporto 1.30 e 98 adesso siamo su una bellissima resistenza dove nel brevissimo vedete ha respinto al ribasso dice da qui si scende non si sale da qui si scende non si sale e qui adesso che succede un puntino si vede punto interrogativo semafro è verde puoi andare cad sto cad vai vai se vuoi salire salire attenzione che poi se effettivamente dovesse accelerare per accelerare significa canada debole dollaro canadese debole se USDCAD sale sale il dollaro scende il canadese e il prossimo obiettivo dove si va qui verso 1.36 41 lo scopriremo ovviamente solo vivendo è supportato questo movimento debolezza del canadese anche per la debolezza del petrolio questo è il WTI USA e anche il Brent che non aveva neanche perforato qui c'è stata una perforazione sul petrolio USA rispetto al UK quindi si compra dollaro USDCAD e si vende canadese per effetto della debolezza del petrolio debolezza quindi canadese invece gold è sempre continua la discesa da questa candela rossa ai chi nasce resistenza 1.341 e siamo su questo vedete questo livello proprio in fase di test di un supporto da dove solo con una verde ha fatto questo movimento però qui invece aspettiamo 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 ovviamente il gold è quotato in dollari quindi tutte le dinamiche legate alla moneta americana meglio di Giotto con quella matita no Carlo già il fatto che non sono così dovrei stare così e forse potrei disegnarli meglio poi io sono mancino solo a scrivere sono mancino sono destro ma solo a scrivere lo so sono strano non sono normale e quindi c'è questa situazione e allora mi riesce ancora più difficile finale 4 mi dice numero al momento non disponibile perdona l'ignoranza e no non mettere il 4 finale lascia oppure hai fatto il 4 ti chiedeva allora mandano i miei mandano i miei a Marco Pianezza e quindi potrai contattarlo Massimo attenzione 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 chi non sta guardando chi non sta guardando guardatemi tutti guardatemi tutti perché in conclusione c'è qualcosa di molto interessante Carlo che so che segue il mercato obbligazionale anche Marco Provenziani che segue il mercato obbligazionario l'avete vista l'avete vista la verde l'avete vista questa verde l'avete vista questa verde chi nasce Bund Bund questi sono i prezzi che vanno dalla parte opposta ai rendimenti attenzione questo potrebbe confermare una sorta di risk off avversione a rischio stanno comprando qui perché vogliono vendere lì sull'azionario attenzione perché questa verde è già confermata estendendo indietro quella che è la linea di supporto ci riporta indietro guardate guardate lì la famosa mega resistenza mega resistenza mega 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 lo dico lo ripeto ancora mega resistenza guarda caso e vedete anche la bontà di tale livello che dal momento in cui è stato violato al riba al rialzo la successiva accelerazione ci dice che quello effettivamente è un livello graficamente parlando molto 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 valido e adesso nell'analisi tecnica resistenza violato cambia si toglie il vestito di resistenza si mette quello di supporto da lì si riparte si riparte si riparte qui primo test 166 52 poi 168 ma lì se i prezzi arrivano lì rendimenti dove dove mamma mia visto che vanno dalla parte opposta e attenzione perché praticamente anche sul decennale il t bond americano c'è in arrivo una verde su un livello anche qui famoso 121 guardate lì guardate lì che livello spettacolare ma poi l'analisi tecnica funziona non funziona l'analisi tecnica è espressione praticamente espressione delle dinamiche tra compratori e venditori l'analisi tecnica i grafici ci dicono dove sono intervenuti a rialzo al ribasso dove ci sono state le inversioni quindi ci credete non ci credete è un dato di fatto questi grafici sono stati di fatti che non li ho disegnati io e quindi ci dicono che guarda caso che coincidenza in corrispondenza di tali livelli stanno accadendo delle cose interessanti che potrebbero dirci qualcosa di più sul discorso anche ovviamente azionario ho chiamato mi ha risposto una donna russa e bravo Carlo scrive Mattia i mancini sono meglio scrive Carlo e dicono che sviluppano entrambe le parti del cervello Carlo un altro Carlo De Santis del resto dollaro si sta rafforzando quindi potrebbe subire flessioni l'azionario e si stanno un po' incastrando vari scenari a livello intermarket pay attention pay attention dieci anni dopo il grande la grande una di trend forse più lungo non lo so adesso il trend rialzi della storia di mercati chissà 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 dieci anni dopo insomma anche perché viviamo la giornata viviamo la giornata assolutamente vediamo 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 si chiude qui questa diretta intermarket chi ha guardato la registrazione sempre in basso giù nella descrizione del video c'è il link per aprire un conto STO e quindi usufruire della promozione legata all'indicatore del caso di chi nasce la formazione operativa di Ivan una coaching di one to one un'ora con Ivan anche la possibilità di registrarsi alla sessione live grazie 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 Pina mi raccomando Pina continua cerca in tutti i modi di seguire la diretta grazie grazie Pina grazie Carlo grazie a tutti chi ora possiamo girare ci vediamo domani mattina 10.30 con la diretta intermarcia una breaking news ha tagliato la crescita economica globale al 3.3 dal 3.5 con questa bella notizia ci salutiamo buona giornata buona giornata a tutti grazie ancora arrivederci grazie a tutti grazie a tutti